Grazie, qua l'Atalantino, qua l'Atalantino e benvenuti in questo nuovo video. Allora, parliamo dell'accessione di Pianic alla Juve. La Roma è pazza, è pazza ragazzi. Aveva chiesto 38 milioni per la clausola, la Juve non ha pagato la clausola, ha pagato 30 milioni, che è niente quello che ha fatto la Juve. La Juve avrà ringraziato la Roma per quello che ha fatto, perché gli ha regalato un giocatore fortissimo come Pianic. Anche se Pianic va alla Juve, la Juve è lì Marchisio, Pogba e Hernanes, che comunque Hernanes non è così scarso secondo me, e con Pianic e Dani Alves ciao, cioè diventano imbattibili sti qua. Questi qua fanno record di punti in Serie A ancora, perché loro hanno in testa un progetto serio, fatto di giovani seri, con le palle così grosse, ostrega. Invece la Roma non ragiona, quando cede i suoi giocatori, evidentemente. Ho detto questo, parliamo, dopo aver parlato della cessione di Pianic, parliamo dello scambio che ho letto ieri su internet, che vuole fare l'Atalanta, tra Terò e Borriello. Io Borriello lo farei subito, ma non aspetterei neanche a dir di sì, perché Terò è forte e può risolverci le partite, 10 gol te li fa, Terò, e con Gasperini Terò può veramente tirar fuori le palle, no? Gasperini è uno che lui è sempre piaciuto, Terò, quindi... E poi con Piniglia non penso sarà un problema. Vabbè, detto questo, questo era un video breve dalla quale parlavo su calciomercato, e ciao ragazzi.